Cari amici, è tornato Nanni Moretti e ancora una volta è riuscito a dare una lezione all'Italia intera. Oggi presenta un film documentario sull'ambasciata italiana durante il golpe di Pinochet in Cile, il golpe per deporre Salvador Allende e ne ha approfittato per rilasciare una lunga intervista al Verdi di Repubblica, dal quale apprendiamo che Nanni non conosceva il motivo per cui stava girando il suo nuovo film, l'ha capito dopo quando è arrivato al potere Salvini, cioè in pratica tra Salvini e Pinochet viene istituito un rapporto di somiglianza. Ovviamente siamo alla malafede più completa perché come voi potete vedere aprendo le finestre in Italia non c'è alcun colpo di Stato, ma insomma non è tutto perché Nanni Moretti poi nell'intervista dice che da noi c'era una memoria condivisa, c'erano dei valori condivisi che erano l'antifascismo e la resistenza, che Berlusconi li ha mandati in frantumi e che quindi ora ci troviamo in questa situazione con Salvini e Pinochet che prova ad arrivare al potere assoluto. Naturalmente in questa lettura è fortemente di parte, la memoria condivisa non c'era, semplicemente una parte politica, quella che aveva perso non poteva parlare, Berlusconi non ha fatto raso al suolo questi falsi pilastri della Repubblica, ha provato a fare una rivoluzione liberale che poi non è riuscita, ma questo è un altro discorso, Salvini con tutti i difetti che può avere non è un dittatore, il Presidente della Repubblica è ancora a suo posto, le istituzioni anche e insomma è incredibile perché Nanni Moretti sembra ormai che faccia dei film solo per poter rilasciare interviste come questa e sta da 50 anni dalla parte sbagliata, il mondo va sempre nella direzione opposta rispetto a quella che lui indica come giusta e mai che gli venga il sospetto, sono un coglione.